o la ragazza come state oggi sono qui per mostrarvi un'altra azienda con la quale ho avuto il piacere di collaborare e che mi ha inviato tanti 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 campioncini che non vedo l'ora di provare allora l'azienda si chiama sagavo volersi bene e quindi produce prodotti naturali con un ingrediente molto speciale la bava purissima di lumaca ragazze state tranquille alle lumache non viene fatto alcun male la bava è una secrezione che esce comunque spontanea dalla lumaca quindi non viene fatto alcun male a queste piccole bestioline quindi ragazze io vi mostro subito i campioncini che ho ricevuto perché sono davvero tantissimi non vedo l'ora di provare quindi queste diverse linee di prodotti che ho ricevuto la busta gigantesca che ho ricevuto perché comunque non so quando terminerò di recensire tutti questi prodotti cioè solo per mostrarvi il casotto di campioncini che dovrò provare così eccoli qua tutti i campioncini immensi vediamo subito qualche prodotto così allora c'è la crema mani e io di questo sono felicissimo perché io sono proprio una consumatrice matta e disperata di creme mani cioè veramente non ne posso fare a meno sembra che le mie palle mani siano sempre secche poi una crema viso per pelle impure molto interessante poi ho ricevuto anche dei campioncini di siro per contorno occhi e labbra effetto lifting e questa è una zona del nostro viso che comunque dobbiamo veramente curare tantissimo e dare la massima attenzione perché molte volte noi trascuriamo io veramente delle volte mi capita di trascurare soprattutto il contorno occhi ed è una cosa sbagliatissima perché è vero che comunque sono ancora giovane diciamo però se già iniziamo a fare le sbaglate adesso figuriamoci quando avremo veramente bisogno di creme anti age quindi creme mani creme poi ricevuto scrub viso tanti 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 campioncini crema corpo quindi veramente ragazze è un botto un botto di roba quindi io cercherò di testarli al meglio ovviamente visto che la maggior parte di questi prodotti hanno dei doppioni quindi potrò provare il prodotto semmai metterò tutto ogni singolo prodotto in una giaretta un po più più comoda da utilizzare e quindi vedremo ragazze io vi lascio tutte le info necessarie affinché anche voi possiate conoscere meglio questo questo brand e dopo aver provato questi prodotti con calma voi sapete che io ci tengo moltissimo a provare i prodotti con calma e con cura perché non voglio essere troppo affrettata anche nelle mie recensioni poi dirò la cosa ne penso sul mio blog vi mando un bacione e vi do anche la buonanotte visto che ho fatto veramente tardissimo stasera con tanti tanti video per voi vi mando un bacione alla prossima ciao